Tutta la polemica sulla giustizia, sulle intercettazioni, il cosiddetto caso Nordio nasce da alcune frasi di Nordio. Del resto noi sapevamo benissimo tutti quanti chi fosse Nordio, lo sapevamo da prima e mi sento quasi dire che è stato chiamato a fare il ministro esattamente per quelle ragioni. La stessa cosa vale per il ministro dell'istituzione Valditara che ha detto qualcosa a proposito degli stipendi degli insegnanti, qualcosa che comincia a ricordarci le vecchie gabbie salariali, ma sono solo parole, non ci sono atti, non sta succedendo niente. Per ora non c'è niente di scritto, certo la visione della giustizia come diceva giustamente Massimo Franco è qualcosa che divide la maggioranza e la maggioranza dall'opposizione. Tra l'altro sì, forse Italia e Nordio vanno in una direzione e tra l'altro nella stessa direzione va il terzo polo. Quindi Giorgia Meloni teme anche, come dire, una saldatura e teme che Nordio sia addirittura rafforzato dall'esterno in intenzioni che vanno, credo, al di là di quelle di Fratelli d'Italia, ma ce lo dirà probabilmente Donzelli. Perché sì, è vero, i toni si sono abbassati, ma io non ho capito una cosa. Ad esempio, sulle intercettazioni, Nordio ha deciso di non limitarle anche per i reati come corruzione, i reati che possono comunque portare a indagini su cose molto gravi, a scoprire cose molto gravi, oppure ci sarà una limitazione, una stretta sulle intercettazioni. Non parlo di quelle che riguardano prettamente mafia e terrorismo, parlo anche di tutte le altre. Questo ancora non si è capito. Sulla scuola, Malditara ha fatto molte uscite, quest'ultima sembrava buttata lì, però tradisce un'idea, quelle delle gabbie salariali, tradisce sempre quest'idea, che è anche l'idea dell'autonomia di Roberto Calderoli, di cristallizzare un'Italia a due velocità, che è già a due velocità, che è già diseguale, soprattutto in cose come la scuola e la sanità tra Nord e Sud. Ma quelle diseguaglianze noi le vogliamo colmare? Questo governo le vuole colmare oppure le vuole cristallizzare? Perché quello che abbiamo imparato nella storia dalle gabbie salariali è che non fanno che aumentare i divari, di certo non li accorciano e non migliorano la vita delle persone. Quindi le giro come domande queste. Ecco Donzelli. E soprattutto Donzelli, riprendendo quello che diceva Cuzzocrea, sono solo parole.